Imperativo presente, sum e quattro coniugazioni attive. Verbo sum, seconda persona, singolare, es, sii tu, plurale, este, siate voi. Prima coniugazione, singolare, seconda persona, voca, presente, chiama tu, vocate, presente, più te, desinenza personale, chiamate voi. Seconda coniugazione, seconda persona, singolare, dele, che è il presente, più distruggi tu, plurale, dele, che è il presente, dove si aggiunge te, desinenza personale, distruggete voi. Terza coniugazione, seconda persona, singolare, mit, mite, presente, più vocale, tematica, manda tu, plurale, miti, te, quindi è mit, presente, più vocale tematica, i, più te, desinenza personale, mandate voi. Quarta coniugazione, seconda persona, singolare, audi, presente, ascolta tu, plurale, audi, te, presente, più desinenza personale, te, ascoltate voi.